E' tornata ad accendersi la focara di Novoli regalando un meraviglioso spettacolo di luci, colori, musica e magia. Un evento attesissimo che segna l'inizio dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate e che si conferma a trattore turistico come dimostrato dalla presenza di turisti giunti da ogni parte per assistere allo straordinario evento ritornato in presenza dopo due anni di stop causa Covid e che vede non solo il patrocinio di comune e provincia Regione Puglia ma anche il benestare del Ministero del Turismo e della Cultura. 18 metri di altezza, 18 di diametro realizzata su due livelli con circa 25.000 fascine di tralci di vite recuperate dalla rimonda dei vigneti. Sono questi i numeri della foca 2023 che mantiene il suo record e si conferma la più grande pira del bacino del Mediterraneo. Bisogna ricordare i tre mesi di duro lavoro che l'amministrazione comunale insieme a tutto il comitato e i volontari per raggiungere appunto a questa bellissima giornata. Ho ascoltato un po' di commenti veramente complimenti al comitato per l'organizzazione dell'accensione del grande falò.